Trovati 10 chili di esplosivo che sarebbero dovuti servire per assaltare Bancomat e casse continue in tutto il nord-est. La scoperta avvenuta in un campo agricolo vicino ad un casolare abbandonato a Valle Giralda di Codigoro nel Ferrarese è il secondo atto di un'operazione scattata sabato scorso e che ha portato in carcere 11 persone responsabili a vario titolo di 41 assalti a Bancomat, le cui figure di spicco risiedevano in riviera del Brenta. I carabinieri di Chioggia hanno scoperto che la banda negli ultimi due anni ha acquistato 30 chili di esplosivo e i militari hanno trascorso l'intero fine settimana a cercare il nascondiglio. L'esplosivo in parte è stato utilizzato, in parte ceduto a Moreno Voltan, 56enne di Legnaro, in cambio di detonatori e il restante è stato trovato oggi. I militari sospettano che Voltan potesse volere l'esplosivo perché è membro di un'altra gang, dedita colpi ai danni di banche e uffici postali. Gli investigatori inoltre hanno trovato chiodi a quattro punte nascosti in un Audi 6 utilizzata per un colpo il 7 agosto scorso. I chiodi dovevano servire per fermare in un eventuale inseguimento le forze dell'ordine. Oltre alle piattine sono stati trovati candelotti di esplosivo ancora da lavorare e 200 detonatori di varie tipologie e dimensioni. L'esplosivo, essendo in parte deteriorato e pericoloso per il trasporto e lo è stato fatto deflagrare in loco da un artificiere dei carabinieri.